siamo in un albergo di classe una coppia si presenta alla reception con bagaglia al seguito di cui la maggior parte della signora lei si siede in attesa mentre lui va al banco per la registrazione salve vorrei una bella camera matrimoniale magari con un bel terrazzo e vista panoramica certamente signore un suo documento grazie e per favore firmi qui e vuole che le faccio portare i bagagli di sua moglie in camera come cosa perché c'è anche mia moglie dove quando è arrivata ciao 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 ciao